li avete visti trionfare si su se li avete visti fallire pensate forse forse no sono morto li avete visti fare grandi numeri i grandi errori la prossima puntata si inizia così sono il vostro punto di riferimento per roguelike ed indie games in generale ma chi è il più forte? 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 6 concorrenti 6 giochi 6 daily challenge 5 punti per il migliore 4 per il secondo 3 per il terzo e così via ogni settimana un set di giochi l'ultima settimana del mese i giochi verranno sorteggiati ed i punti saranno doppi il primo che arriva 80 punti sarà il vincitore per conoscere le regole della competizione cliccate sull'annotazione qui sotto grazie ha a a a Grazie a tutti.